Un colpo di fucile esploso a bruciapelo all'altezza del petto, un delitto consumato tra le mura domestiche e la moglie ha sparato al marito e l'ha ucciso. Il drammatico episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì a Campolungo nei pressi di Lonnano di Prato Vecchio Stia. La vittima di Nogori aveva 64 anni, era un ex militare dell'aeronautica. La moglie Paola Marzenta, dopo aver ucciso il marito con un colpo d'arma da fuoco, ha prima chiamato i soccorsi e poi ha contattato un avvocato. Infine si è costituita. A dare l'allarme è stata la donna sul posto, è intervenuto il 118, ma per l'uomo ormai non c'era più niente da fare. La coppia, secondo le prime indiscrezioni da tempo, aveva problemi. I due si erano separati, per la prossima settimana era prevista l'udienza per il divorzio. Lunedì pomeriggio probabilmente l'ennesima, l'ultima lite ed infine il drammatico epilogo. L'erano insomma un parecchio in questione, un parecchio, sapevo che non erano, cioè stavano insieme, però io sapevo che due dormivano da una parte, le da un'altra, erano un parecchio litigio, ecco. Una situazione già tesa. Sì, 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 però che arrivassero a questo punto che io mi saremmo aspettato, ecco, che arrivassero a un punto che lei doveva sparare al marito, no, questo qui non pensavo. La donna ha imbracciato il fucile da caccia, regolarmente detenuto dal figlio e ha esploso un colpo che non ha lasciato scampo al marito per motivi ancora sconosciuti e per cui sono in corso accertamenti. La coppia viveva nella piccola frazione montana, la donna era titolare di un allevamento di bovini.